Il countdown è terminato, 24-29 luglio, Gizzeria Lido, fazzoletto di terra e mare in provincia di Catanzaro. Il golf più conosciuto d'Italia per gli amanti del kitesurf che in questo angolo di Calabria trovano la loro naturale consagrazione agonistica ormai da diversi anni. Da qui sono passati tutti i numeri 1 delle varie specialità e categorie. Lo rifaranno a partire da stasera quando a Gizzeria prenderà il via ufficialmente il campionato mondiale, uno spettacolo di acrobazie e colori di cui daranno sfoggio gli oltre 100 atleti provenienti da ogni angolo del globo, dalla Cina all'Argentina, dalle Filippine agli Stati Uniti senza contare ovviamente i tanti europei ed italiani presenti, tutti divisi come sempre nelle categorie classiche uomini, donne, senior e juniors. A loro toccherà equilibrare le speciali ed uniche condizioni geomorfologiche che hanno trasformato questo tratto di mare tra i più ricercati del mondo. Ma l'Angloose Beach, diverse come ogni anno anche le attività correlate, dedicate ai non agonisti e ai diversamente abili, a cui è dedicata una speciale competizione. Alessio Buompasso per la Cinus24